Ciao a tutti e bentornati, quest'oggi ci troviamo a Catania perché abbiamo ricevuto un SOS look da un nostro spettatore e iniziamo subito vedendoci la scheda del protagonista di oggi Nome Aldo Anni 28 Cosa fai nella vita? Studio informatica Perché ci hai chiamato? Un po' di tempo che penso di rinnovare il mio look, ho pensato di chiamare Claudio per farmi dare una mano Ed eccolo qua, ciao Aldo Ciao Claudio Ciao, ho sentito che cambiare il tuo look volevi E perchè vuoi cambiare il tuo look, non ti senti più a tuo agio? No ma mi sento più a mio agio, è così, volevo azzardare dandomi una mano Ho uno stile proprio, allora ti ci penso io, guarda ti rivoluziono tutto, fammi vedere un po' Sì io un po' ti ci penso, iniziamo dalla testa, iniziamo dal capo perché io a questi capelli voglio togli qualcosa, andiamo Claudio, piacere, qua a Catania mi hanno detto che se sei il parrucchiere ti sveglio di Catania Io ti porto Aldo guarda perché voglio fare qualcosa a questi capelli, guarda, io lo mando a questa testa qua Ah sì, hai ragione Ecco è finito, cioè tu non ti vedi lo so perché all'inizio quando si cambia look ci sono sempre dei problemi all'inizio Ma stiamo iniziando a lavorarci, vengono Continuiamo a creare il nostro total look dalla testa ai piedi, ormai oggi abbiamo fatto questa modalità Ecco, io avevo già in mente un occhiale per te ed era proprio questo, il modello a goccia, specchiato Controlliamo il prezzo, 10 euro, ci va proprio bene e ce li prendiamo Con questa bella maglia a rombi, quest'anno il rombo mi va per la maggiore, tu provatela Intanto io ti cerco un bel jeans per sotto e una magliettina bianca sotto che sono meno normale Per pantaloni io starei su un jeans, trattandosi di un look quotidiano diciamo il jeans mi va benissimo Non troppo sfarzoso, bello largo, secondo me si sposa benissimo con il golf che abbiamo scelto a rombi Controlliamo il prezzo, 39,99 euro all'interno del nostro budget Occorre una magliettina bianca da mettere sotto allo scollo a V a rombi In modo da sdrammatizzare, a renderlo meno elegante Questa un po' elasticizzata, un bel collo a V, secondo me non è male Controlliamo il prezzo, 4,90 euro, cioè che cosa volere di più Quindi Aldo a che punto siamo? Ce l'ha fatta? Tutta a posto Invece guarda, secondo me abbiamo fatto un bel lavoro, siamo partiti dai capelli Abbiamo ristrutturato tutto il tuo look Le scarpe sono le tue ma credo che si sposano, no credo, sono certo che si sposano bellissimo Con tutti i vestiti che abbiamo preso Ti ricordo, l'occhiale è tutto il regolo dimenticato Ma elemento indispensabile per completare il nostro tal look Quindi sei fiero, ti piace? Ma sono fierissima Claudio, mi hai messo gli occhiali, ma mi hai messo il giubbotto, ma che pensi di essere al mare? E te che ci dino, certo che siamo al mare, guarda qua Ed eccoci qua, eccoci arrivati al mare Tu non ci credevi e non credevi neanche che avrei strutturato il tuo look Guarda qua come stai, ti vedi bene? Benissimo, mi hai convinto L'unico consiglio che posso darti a questo punto è dimentica il gelo e non usarlo proprio più perché è così che quelli stanno veramente da Dio Mi sembra il dato al look è perfetto e allora facciamo il riassunto di quanto abbiamo speso oggi chiamando la nostra calcolatrice Parrucchiere 6 euro Jeans 40 euro Occhiali 10 euro T-shirt 4 euro e 90 Maglia 27 euro e 90 Per un totale di 88 euro e 80 centesimi Missione impossibile completata Io sono fiero di me stesso perché si vede veramente una netta differenza Tu Aldo mi hai detto che sei contento? Io sono contento Ma contentissimo E' una cosa che ti dico che noi siciliani quando siamo contenti ci facciamo anche il bagno Mi sono andato a fare un bagno Ma questo è impazzito ma vai dove vuoi Amici la nostra missione impossibile è conclusa per oggi ci vediamo la settimana prossima E vi ricordo che chi vuole essere bello lo sia Vero Aldo? Aldo? Ma dove vai Aldo?